Arriviamo ora a una seconda splendida relazione del professor Gustavo Guizzardi, sociologo di estrema importanza che ha dedicato gran parte della sua ricerca al fenomeno religioso ma anche alla morte per questo che diciamo si sono intrecciati i nostri interessi. Ricordo il suo intervento di due anni fa al congresso Simbeyon Vedere Oltre che folgorò il pubblico che era pervenuto su alcune questioni bioetica fondamentali e oggi altrettanto con altrettanto coraggio il professor Guizzardi mette in questione uno degli aspetti che fino ad ora è stato taciuto del nostro congresso. Noi abbiamo presentato il titolo terza guerra mondiale senza mai citare Papa Francesco però Papa Francesco sta dichiarando dall'inizio del suo pontificato siamo la terza guerra mondiale è già in atto. Ora abbiamo sentito diverse posizioni fino fino ad oggi nei tre giorni però nessuno fino ad oggi aveva detto ma Papa Francesco sta dicendo che siamo già interamente in guerra. Allora ecco questo non so se magari può essere successo durante le sessioni parallele ma potrebbe essermi ovviamente sfuggita. Allora professor Guizzardi noi l'ascoltiamo perché il titolo del suo intervento è Papa Francesco e la guerra che tra parentesi sì quindi c'è da spiegare perché quelle parentesi dice di nuovo punto di domanda. Prego. Grazie. Dunque entro subito in argomento. Il Papa in agosto del 2014 ha detto siamo in presenza di una terza guerra mondiale combattuta a pezzi. Questo diciamo ha colpito tantissimo soprattutto i media che l'hanno ripetuto e ci è entrato un po' in testa. Anche Severino ha detto ma vabbè adesso ci dobbiamo interrogare su cos'è esattamente questa affermazione. Beh io provo a farlo non dal punto di vista della filosofia ma dal punto di vista di cercare di capire in che cosa consiste e qual è il messaggio che come è fatto eccetera. Attenzione io adesso do un'interpretazione che sembrerà banalizzante ma ha un suo motivo. Terza guerra mondiale combattuta a pezzi secondo me indica siamo in un mondo in cui ci sono tanti conflitti. Guerra. La guerra perciò non è proprio quella solo quella combattuta è una cosa più generale. Ci sono tanti conflitti sparsi nel mondo mondiale contemporaneamente e cioè terza cioè un'unità pur in queste diversità e questi conflitti sparsi nel mondo contemporaneamente si svolgono in campi e modi diversi. Ecco questa combattuta a pezzi. Vorrei dire, vorrei proporvi una situazione di questo genere che c'è una cosa abbastanza semplice dietro. Siamo in una situazione in cui ci sono tanti conflitti sparsi nel mondo nello stesso momento e in campi e modi diversi. Guerra può essere guerreggiata, poi non è guerreggiata eccetera eccetera perciò è anche conflitto chissà cosa vuol dire. Primo punto comunque. Indicazione di un aspetto che non è così specifico come sembrerebbe ma è molto più generale e anche più a un alone di incertezza nei suoi contenuti. Secondo punto. Implicito anche detto. Di fronte a questa situazione dobbiamo agire. L'ha detto anche Severino. definiamo una situazione in cui siamo ma contemporaneamente la proponiamo proprio perché diciamo che dobbiamo fare qualcosa. Non semplicemente ammirare, enunciare la situazione ma enunciare per dire beh allora che facciamo? Questo è il contesto in cui mi metto. Questa azione si può muovere su almeno tre livelli. primo livello. Papa Francesco è un papa della Chiesa Cattolica, il massimo esponente della Chiesa Cattolica e quando parla siamo abituati a interpretarlo come che affermi qualcosa che riguarda la dottrina. è uno degli aspetti. Infatti sarebbe da verificare un punto su cui si potrebbe muovere questa affermazione siamo in presenza di una terza guerra mondiale combattuta a pezzi che dobbiamo fare ed è questa. a livello di dottrina la domanda è importante per i cattolici. C'è una guerra giusta? Cioè ci sono guerre che è giusto combattere? o nessuna guerra è giusta? Perché sembrerebbe che uno dei contenuti dell'affermazione iniziale è nessuna guerra è giusta. Su questo punto non l'approfondisco. Su questo punto Papa Francesco ha detto delle cose cose che aprirebbero non tanto a una soluzione di questo problema ma a ridurre lo spazio in cui si può dire che una guerra sia giusta. Le guerre di liberazione per esempio sono giuste o no? Le guerre dei poveri contro contro l'oppressione. Allora i problemi ci sono ma allora a livello di dottrina si afferma un problema e si lascia la dottrina risolverlo. Certamente ci sono come dei no impliciti, certamente secondo me, anzi è detto non è giusta la guerra di conquista e cioè quella esplicitata secondo una volontà di potenza. l'ha detto anche Severino. Le guerre che sono fatte per allargare il nostro dominio o il dominio di qualcuno non sono giuste. Ancora è stato detto ci sono guerre che non sono giuste e sono quelle compiute per arricchirsi, per guadagnare il commercio delle armi detto in parole molto semplici ma non è solo così. quelle per... fatte per motivi economici. Non sono giuste, al terzo punto, le guerre combattute in nome della religione. E qua è l'aspetto interessante della questione. Non sono giuste le guerre combattute in nome della religione, anzi sono sataniche. Dal nostro punto di vista possiamo pensare che le guerre combattute in nome della religione siano quelle del terrorismo islamico che ci colpisce. ma non è solo questo. Qualsiasi uso della religione per legittimare una guerra è satanico, cioè è la cosa peggiore che si possa fare implicitamente, ma è stato anche detto tre giorni fa, pochi giorni fa, anche della religione cristiana. e qui è un punto interessante perché noi siamo sempre... potremmo essere abituati... le altre religioni... gli altri non possono aggredirci in nome della religione loro, però è più generale l'aspetto. nessuna religione può essere invocata per combattere, per fare una guerra, per innescare conflitti. Secondo punto, questo è l'aspetto, come dire, teorico. Secondo punto, e qui lascio a chi se ne intende più di me, e non me ne intendo neanche un po', le azioni diplomatiche e geopolitiche per cercare di risolvere questi conflitti. Vediamo risultati a Cuba, sulla guerra non fatta contro la Siria e via di seguito. Andiamo al terzo punto che ci riguarda più direttamente. se questa... se siamo in presenza di una terza guerra mondiale combattuta a pezzi e bisogna fare qualcosa l'aspetto centrale è bene, questo ci interessa, ci deve interessare tutti. quindi, cioè, questo messaggio è pensato non per il corpo diplomatico soltanto, non per i teologi o i filosofi che devono rispondere ai grandi problemi di questo genere, ma è un messaggio che è volutamente individuato per tutti coloro che ascoltano. in questo senso qui non è specifico, è più generale, comprende sfumature, eccetera, ma lo scopo, l'azione riguarda tutti gli ascoltatori e non solo, gli specialisti nell'azione per risolvere i conflitti. e qui un discorso di metodo io darei importanza per per vedere, per dipanare questo ragionamento sui discorsi fatti a braccio su quando, cioè, il Papa Francesco dunque Papa Francesco utilizza fa delle cose teoriche importanti encicliche, lettere e via di seguito in cui ci mette della importanza teorica della sua funzione. Ma molto anche delle cose dette le interviste nell'aereo, nei viaggi di ritorno ai giornalisti ben sapendo che i giornalisti riporteranno nei giornali il giorno dopo o anche subito su quelli online quello che lui dice a loro non quello che lui ha detto al corpo diplomatico ma soprattutto questa affermazione, come dire, verbale faccia a faccia mi ha colpito anche che ci sono in Azerbaijan, in Georgia ma anche in altre parti della gente presente delle suore, dei ragazzi e delle ragazze che fanno delle domande il Papa prende appunti e risponde come una qualsiasi lezione universitaria cara Beatrice, hai ragione cara suora, so d'accordo con te oppure no, guarda che non è proprio così e queste cose le vengono le troviamo nel sito del Vaticano cioè c'è una cosa stenografica e vengono riportate come cose dette le famose shows di altri di filosofi allora questo è volutamente un mettersi in contatto con i ragazzi, le ragazze le persone che sono lì diciamo a cui si dice qualcosa e si risponde e si colloquia dunque è importante nella comunicazione questo aspetto qui non tanto sì, certo quello teorico-filosofico sul Papa infallibile eccetera ma adesso c'è quest'altra dimensione che parla come potremmo parlare noi qui io dico qualcosa ma vi fate domande non sono il Papa nonostante mi proponga come ecco e dov'è la tecnica comunicativa che secondo me c'è secondo me c'è questa tecnica comunicativa nel pensare una formula terza guerra mondiale combattuta a pezzi che volutamente è imprecisa per poter essere ricepita e articolata in base a tutti coloro che potenzialmente possono ascoltare il soprattutto la presenza di una azione in questo aspetto comunicativo che è quello di indicare non quello di teorizzare non di dare soluzioni né teorie ma di puntare il dito cioè dire dove sono le cose che si ritiene importanti su cui si propone che sia importante un'azione conseguente cioè mettere in luce qualcosa in questo senso qui la imprecisione necessaria perché non si sta proponendo una soluzione si sta proponendo il primo passo il rispetto agli interlocutori vi dico dove va collocata l'attenzione e poi si troverà soluzioni ciascuno a modo suo il corpo diplomatico i teologi e altri e ciascuno provi a vedere le due cose che vengono che vi propongo è in questo indicare e non teorizzare e non proporre soluzioni che è strano però per un papa a cui siamo abituati che dice dici che dov'è la verità no non è detto non si propone qui di dire dov'è la verità si propone più semplicemente forse di dire dove sono dei punti critici su cui dobbiamo mettere l'occhio la verità una delle prime cose che ha detto questo papa è che dice chi sono io la verità è una cosa complicata l'azione e ci l'azione di tutti ci interpella allora tecnicamente proporrei che l'aspetto sia un aspetto sia quello di per indicare è dare un nome dare un nome alla cosa ecco terza guerra mondiale combattuta è già dare un nome a una serie di problemi così a una nuvola di problemi ma ci sono delle cose più specifiche in Armenia dire genocidio è una parola tabù genocidio degli armeni è tabù e però è dire indicare io dico genocidio ma volutamente non è che mi sfugge perché devo indicare esplicitamente dove è il problema dopo altro punto quando padre Amel è stato ucciso in settembre di quest'anno avete presente padre Amel quello che celebrava la messa è stato ucciso ha detto è un martire è affermazione interessante perché indicava qualcosa dopo lui stesso parlando in quelle cose a braccio che vi ho detto si corregge perché gli devono avere detto fermo un momento se tu dici che è un martire è un martire dunque è beato e dopo dice in questi colloqui diciamo apparentemente senza importanza beh ecco che sia beato e cioè che sia canonizzato ci pensa la congregazione delle cause dei santi e mi diranno che cosa ne pensano loro perciò dal punto di vista dottrinale amministrativo teologico che sia beato non so questo è un problema di dottrina che sia invece lì che c'è un aspetto importante sì arrivo alla fine e adesso vi mostro l'altro aspetto allora primo è sul dare un nome alle cose vi ho fatto due esempi secondo è nelle immagini è una comunicazione secondo immagini adesso ve ne mostro alcune ed è questa questa è quella di Lampedusa 3 ottobre del 13 l'abbiamo presente tutti tra l'altro sono immagini che abbiamo anche presente perché sono quelle che appaiono nei giornali ma è un cortocircuito voluto cioè vengono scelte dai comunicatori delle immagini che però sono secondo me in linea con quanto vi sto dicendo non è che questi scelgono immagini sbagliate in qualche modo ma il messaggio funziona il Papa che di fronte ai morti di Lampedusa centinaia va lì primo va lì indica dov'è il punto che è importante su cui è importante riflettere e dice c'è ci sono dei morti in mare ok che fare ragazzi ci sono dei morti in mare questa è una cosa fa parte di quella terza mondiale combattuta a pezzi che non possiamo tollerare alla visita in Israele in maggio del 14 è a Betlemme non previsto dal 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 sistema diciamo formale ecco si 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 blocca e dice qui c'è il muro che ha costruito Israele e adesso mi fermo e lo tocco cioè lo indico mi metto lì per dire qui c'è un problema che cos'è che cos'è è un altro discorso ma è qui che c'è un problema Auschwitz l'ingresso di Auschwitz ok questo è del luglio di quest'anno la matrice dell'ottobre di quest'anno hanno tutte in comune qualcosa queste immagini adesso vi dico subito padre Amel nella messa della mattina a Santa Marta il Papa ha mette la fotografia di padre Amel sull'altare su cui sta celebrando avete presente che lui dice anche qui diciamo in un impeto dice al vescovo guarda tu mettili la fotografia fa delle messe con la sua immagine davanti come i beati e i santi c'è un problema importantissimo sul culto che non si deve rendere prima che sia canonizzato tu fallo prima che sia canonizzato perché lui è martire dunque beato e lo fa dopo dopo dice ma insomma forse qui ho esagerato però lui lo fa eccolo qua questa immagine questa è quella di Lund qualche giorno fa celebrazione del quinto centenario di Lutero e si è vestito come gli altri rappresentanti del luteranesimo anche qui che cosa si sta dicendo si sta dicendo questa guerra la guerra di religione combattuta fra cristiani non doveva essere combattuta ma di fatti ha detto niente alle guerre in nome delle religioni appunto nemmeno la nostra e questo mi sembra che sia il messaggio più forte finora ma niente a guerra in nome delle religioni nemmeno le nostre religioni cos'hanno in comune queste immagini queste immagini hanno in comune la solitudine queste sono in tre tutte le altre è lui solo la solitudine cioè si tratta di esserci da soli di fronte ai gravi problemi che vengono indicati e perciò da soli dobbiamo trovare una soluzione del cosa fare cosa dire come comportarci non lo so e perciò questa è la solitudine dell'uomo di fronte alla situazione indicata che deve trovare risposte una frase spesso di Papa Francesco è non capisco di fronte al dolore dei bambini e alla morte dei bambini non so cosa dire ed è questa come non sai cosa dire ci sono due milani di teoria su queste cose qui però dice non so cosa dire perché io personalmente sono in questa situazione qui aspetta quella che abbiamo visto sono in quella situazione qui di essere ad Auschwitz da solo devo trovare una soluzione a questo problema sono in all'und assieme a quegli altri lì su cui ci siamo fatti la guerra devo trovare una soluzione dunque è un non capisco per dire momentaneamente non capisco è un non capisco per dire devo trovare una soluzione al mio non capire e questa soluzione al mio non capire è un problema di tutti e questo vi sottolineerei c'è una cosa che che troverei sì vi proporrei di sì questo è un atteggiamento che dal 1500 e tanti è stato indicato da Ignazio fondatore dei Gesuiti è Gesuita questo Papa qui ed è quello di dire i primi momenti degli esercizi spirituali sono fermi tutti devo collocarmi di fronte a una situazione da solo e vedere qualcosa cercare di vedere qualcosa e da solo con l'aiuto di qualcuno che mi aiuti a muovermi in questa situazione qui per cui proporrei che il Papa Francesco si proponga come gestore lui di esercizi spirituali a tutti quelli che lo vogliono ascoltare e vedere prima di tutto in media per dire io posso indicarvi anche a me stesso delle situazioni critiche cioè critiche perché sono importanti siccome sono critiche sono estremamente importanti devono essere risolte perciò provo a indicare a me e a voi dei punti importanti da risolvere e poi e poi la vita è la vita le situazioni sono le situazioni intanto indichiamo e poi si vedrà e poi come dire qui c'è una scommessa su su cosa dobbiamo fare su cosa ciascuno deve fare non lo so insomma mi sembrerebbe perciò in conclusione che questa idea della terza guardia mondiale combattuta a pezzi sia una proposta etica perché contiene un aspetto di dire guardate che di fronte a delle situazioni di crisi complessive generalizzate e di oggi non possiamo far finta di nulla sembrerebbe poco però insomma già qualcosa ecco grazie 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 grazie